Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Ha perso tutte le battaglie in Europa e soprattutto, lo dico perché riprendo il ragionamento di Rampini prima, quando diceva che gli americani guardano come stavano qualche anno prima, bene, rispetto ad un anno e mezzo fa sono aumentati i costi della vita, non è aumentato lo stipendio, non è aumentato il salario e sono aumentati i problemi. Quindi questo è il quadro su Giorgia Meloni.